3 perchè? ah adesso guarda oh dopo ci metto un sottofondo musicale bravo 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 oh dario ma come hai fatto scusate ho visto schiantare come fai a mostrare oh come hai fatto eh infatti anch'io l'ho visto lì poi diventato invisibile tutto entrato oh pure mo un'altra volta oh vero che cosa sta combinando la tua macchina ma che ne so eh che speciale ma do meno male che sto registrando e poi ci dice oh gli davano le botte e stava sempre la ma lì da 3 come è brutto arriva invisibile la tua macchina arrivo 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 dove vai dove vai no è lì uuuu 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 una uuuu mi ha buttato fuori scuola uuuu che fu uuuu 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 Uuuuh Danio ma non è una macchina Che cazzo Uuuuh Non è possibile Uuuuh Questo è un déjà vu Uuuuh E' tutto appunto da tua mente Pazzucca Ma che Uuuuh Eh no ho voluto testare serie reale Dove vai? Ma dove va? Ma che cazzo Anche la vita che scompare Dario Ma stai scherzando? Tu stai scherzando Uuuuh Bastardo di merda Ma è di primo Dario Ma ha fatto l'incidente Ma ha fatto l'incidente Ma a un certo punto ha prevolato Ahahah Ma non si può prendere neanche la scia Dario Perché scompare Uuuuh Uuuuh Gara truccata al massimo Secondo Finisce primo ragazzi Dario ma perché scompare la tua macchina? Non si può dire ma arriva comunque Oh Dario che cosa è combinato? Pino Io vedo che faccia il incertegno 3 E' lì davanti Vincitore Sì Imbrogliando Che vinci tu Dai E' la salute perché questo è imbrugliato Va bene